Simulazione e esame di stato, seconda prova scritta, matematica e fisica, problema 1, il problema del trenino elettrico. Nel testo si parla di un vagone che proviene da sinistra, che subisce un forte rallentamento fino a quasi a fermarsi. Sopra al binario è presente un piccolo magnete permanente di forma quadrata di lato 5 cm, è questo. Sul fondo del vagone è presente una cornice quadrata, questa, di dimensione uguale al magnete, su cui è avvolto un filo a formare una spira quadrata di resistenza a questo valore. Quando il vagone passa sopra il magnete, il vagone passa sopra il magnete, la spira passa sopra il magnete e in questo passaggio il vagone rallenta, quindi è un freno magnetico. Leggiamo tutte le domande, spiega qualitativamente l'origine della forza frenante dovuta al passaggio dell'aspira sopra il magnete. Poi dà il valore del campo induzione magnetica, uniforme e perpendicolare al magnete rivolto verso l'alto, dimostra che l'equazione del moto dell'aspira durante il passaggio è questa, dove 50 g è la massa del vagone. Verifica che l'equazione del moto ha questa soluzione, dove v0 è la velocità del vagone, nel momento in cui entra nel campo del magnete permanente. Esprimi la costante tau, che sta qua, in termini delle altre grandezze fisiche presenti nell'equazione del moto, cioè questa, e calcola il valore numerico di tau. Poi, se il vagone si muove con questa velocità iniziale, determina il tempo che l'aspira impiega ad attraversare completamente il magnete e la velocità che ha dopo aver attraversato il magnete. Ultima domanda, se la velocità iniziale v0 è inferiore a un certo valore limite, l'aspira non riesce a superare il magnete. Allora, il freno agisce come un blocco insormontabile per il vagone e determina il valore numerico di questa velocità limite. Ora, fermatevi qui, provate a risolvere da soli tutte queste domande e poi, soltanto alla fine, guardate lo svolgimento che segue.